Noi abbiamo fornito uno strumento di analisi della situazione attuale in Veneto vista sotto diversi punti di vista. Certamente c'è un problema a presenza delle mafie in Veneto, questo problema riguarda anche una presenza in parte del tessuto economico imprenditoriale del nostro territorio e quindi vogliamo fornire ai cittadini, alle istituzioni, ai soggetti economici un elemento in più per poter valutare perché e come sono presenti le mafie oggi. Durante e dopo la pandemia il crimine in Veneto è aumentato significativamente secondo la ricerca a sguardo d'insieme curata da Libera, i reati spia come usura, estorsione, riciclaggio di denaro, truffe e frodi informatiche sono cresciute del 68% nel biennio 2022-2023 rispetto al periodo prepandemico raggiungendo quasi 56.000 casi. Le interdittive antimafia sono aumentate da 21 a 270 e le segnalazioni sospette sono salite del 29%. Anche i reati ambientali e i cybercrime sono in crescita evidenziando come la pandemia abbia favorito l'espansione delle attività criminali. Pensatevi da un dato, nel 2014 erano 88 i beni immobili confiscati alle mafie in Veneto, oggi sono più di 640 beni immobili confiscati in via definitiva alle mafie in Veneto. Questo per farvi vedere in dieci anni come è decubblicato il tema. L'Unione delle Camere di Commercio del Veneto ha intensificato i suoi sforzi per contrastare l'espansione della criminalità nella nostra regione promuovendo iniziative di sensibilizzazione e prevenzione supportando le imprese colpite da fenomeni criminali e lavorando per rafforzare la rete di legalità sul territorio. L'attenzione che devono essere anche le Camere attente approfittando anche dei grandi dati che hanno a disposizione le loro banche con le varie possibilità di incidere per dare materiale a chi poi deve sempre tenere sott'occhio un territorio, un modo di vivere, un sistema che comunque non è facile da tenere in regola e noi portiamo avanti solo un discorso. Le imprese che rappresentiamo devono rimanere dentro le regole. Fuori purtroppo corrono il rischio di andare nelle secche che non possono essere altro che sabbie mobili di difficile soluzione.